Montagnère Marmi, fornitura di davanzali coibentati in gress per cappotti. Bentrovati al meteo. Un nuovo sistema perturbato arriva sull'Italia, determinando una fase piovosa anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 29 aprile. Sul Veneto cielo coperto ovunque, al mattino qualche precipitazione sui settori più a ovest della nostra regione, col passare delle ore fenomeni in estensione anche al resto delle province. Localmente potranno essere anche di moderata intensità. Temperature invariate, minime tra 9 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà nuvoloso ma asciutto inizialmente, dal pomeriggio piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime fino ai 15-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, graduale peggioramento anche qui con rovesci che a tratti saranno anche forti. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime fino ai 18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Montagnère Marmi, fornitura di davanzali coibentati in gress per cappotti.